Una grandissima emozione che i ragazzi ci hanno regalato, soprattutto perché l'aspettavamo a tantissimo tempo e penso che hanno coronato il sogno dei milioni di argentini che siamo in tutto il mondo. È stata una grandissima finale, per noi l'argentino è stata offerta perché sembrava che andasse tutto tranquillo, però poi la Francia ha avuto una grande reazione. Diciamo che la parata del Divo Martinez alla fine del supplementario è stata determinante. Per me no, perché a me non piacciono i paragoni e dobbiamo ringraziare che tutti i due grandi della storia sono argentini. No, l'Auti ha avuto qualche difficoltà per un infortunio che aveva, però alla fine è riuscito sempre a contribuire, a fare un rigore decisivo contro l'Olanda, diciamo che torna da campione del mondo. Non è cambiato, è più maturo e credo che la sua leadership l'ha riuscita a trasmettere a tutti i ragazzi.